Ciao a tutti voi ragazzi e ragazzi, sono il vostro caro Master King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Stoneblock, Stoneblock con Skyblock. Quest'oggi come potete vedere da lì di conturre questa cesta ho completato qualche missione, mentre cercavo di completare e fare bloccoli d'oro per lì all'interno del nether, mentre ho completato pure la missione rotta in flash e invece mentre cercavo i wheel schedule per ottenere le loro teste sono riuscito allo stesso tempo a ottenere le ossa. E mentre ho ampliato pure un po' questa farm e quindi direi di andare a consegnare subito queste missioni, semplicemente. Ora, zucche ancora non me ne sono riuscite quindi ancora non posso completarne nessuna. Di meloni ne ho, di melomblock ne ho uno su quattro. Ora, sabbia l'ho fatta, sandstone anche, 30 cactus, eccoli qui. Quindi non ho, quindi subito ci ho aperto l'altra cesta e ci dà 15 cactus, carina. L'utilità? Non la so, sinceramente. Rotta in flash, eccola qui, stessa cosa. E mi dà la testa di zombie. scheletro. Ok, 64 ossa. Ok. Oh, gold block. No, cacchierola, non me l'ho aperto. Ok, intanto mettiamo le ossa e mi dà la testa di scheletro. Ora, devo capire, eccola, devo mettere il blocco d'oro, vediamo cosa ci dà. Testa di villager. Perché di queste teste non ne ho idea, non vedo l'utilità. Però, per il momento posso aggiornare le emissioni che ho fatto. Ehm... ok, che mi sono fatto il mio, sul qualernino, l'ho scritto le varie missioni da completare, perché altrimenti se no per fare avanti e indietro ogni volta è abbastanza complicato. Allora, visto che al momento non è che le utilizzerò più di tanto, direi di piazzare meglio. Non vedo l'utilità per utilizzarle. Per quelle delle teste, quindi per il momento le poso. Una cosa che però prendo sicuramente sono questi pezzi di cobblestone. Che direi di piazzare tranquillamente qui, per cominciare, a fare il mob spawner. Se poi anche questo maiale... ok. Se ne va, non sarebbe male. Allora, l'ideale sarebbe rifarlo di 23 blocchi in altezza. Però una cosa sicura che mi servirà, a parte un paio di secchielli d'acqua. Meglio, me ne servirà uno in particolare. Così, in questo modo, quando una volta è stato su, posso scendere senza ammazzarmi. Ok, quindi per il momento stiamo a tre blocchi in altezza. Ora, questi blocchi di cobblestone che ho sicuramente non mi basteranno. Quindi vediamo in che modo riesco a sfruttarli. Qui siamo a tre. Quattro, cinque, e sei, sette, quattro, cinque, 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 cinque. Ok, arrivare a 23 blocchi. Diciamo che non moriamo, perché è vero, basta al player, bastano i 23 blocchi però in questo caso avendone fatti qualcuno in più quindi quei 3-4 blocchi le altezze in più diciamo siamo in qualche modo state diciamo ci salviamo quindi direi a approfittarne per continuare a salire ora come ora dubito che dubito di riuscire a diciamo a completare tutto il mob spawner vediamo cosa riesco a fare perché sono solamente due, tre, quattro quasi cinque stack di cobblestone diciamo forse riesco giusto a fare il primo livello per così dire infatti già ne abbiamo completato un altro di stack di cobblestone e manca abbastanza per arrivare in cima quindi sicuramente dovrò farmare farmare parecchia parecchia cobblestone anche se uno slime è caluro anche se devo mettere che anche la legna non è male da usare per farmare ora in totale serviranno sarebbero otto blocchi perché l'acqua appunto ha come lunghezza di massimo di otto blocchi quindi siamo a tre ok siamo arrivati a otto blocchi ora mi faccio anche l'altra metà spero altamente di non cadere in questo momento ora per ogni lato servirà sicuramente un diciamo una sorta di muro per l'acqua così che non sprofondi diciamo non vada sui dati infatti se guardate il lato dove ho piazzato l'acqua rimane tranquillamente della sua cioè arriva fino a qui otto blocchi e poi si ferma in modo che nel momento in cui il mob cade in questa zona viene trasportato dall'acqua e cade ora una cosa che sicuramente mi servirà è piazzare comunque qualche blocco più al lato dove appunto in futuro ci saranno i mob che cadranno e per il momento ci piazzerò solamente di due secchielli d'acqua questo perché perché in questo modo posso avere acqua infinita e ora che scendo poso uno dei due secchielli così nel caso dovessi cadere nel vuoto ho comunque l'altro di scorta ora devo giusto vedere fino a che punto riesco ad arrivare qui ne ho secondo tre quattro cinque ora come ora cercherò solamente ok di fare i i vari blocchi nel senso i vari corsi d'acqua il che sarebbe veramente una cosa molto molto utile se non fosse per questo blocco che ho piazzato male ah è vero io di sotto dovrei avere piazzato un letto quindi tranquillamente direi di scendere e cercare di ottenere un blocco intanto di dormire se vedo il letto no non ce l'ho più il letto ah è vero quello lì che avevo voluto craftare l'ho usato per per piazzare il cioè per la missione ora io qualche altro blocco di melone ce l'ho messo da parte infatti ok mi manca da prendere un melone solo quindi il prossimo è cresce e sto a posto ora diciamo il fatto del mob spawner sarà utile anche per un altro motivo ovvero quello che posso finalmente craftarmi un letto così i ragni faccio fuori ok ora spero altamente che al momento non sia spawnato nessuno sopra e sono caduto di sotto ok ho perso pure la gobleston ok questo li posso piazzare ok sto in adventure mod quindi come l'altra volta devo mettermi in survival mod quindi diciamo la mia sfortuna come al solido è quella di cadere sempre nel vuolo devo ricordarmi di ampliare sempre di più ok io una volta non avevo la print still lo ricordo male ok quindi per il momento il il pane me lo dovrei mettere da parte anzi no visto che le ossa le ho consegnate direi di far crescere il più possibile le il pane così per approfittare di per la crescita ok col bombier in mano non basta non c'è bisogno mentre si si ok quindi sono fatto i miei 13 pezzi di pane ora 18 ton di ton di multiplo di 6 il che va a favore mio così posso farmi un pane un panino fatto bene e non ho nulla ora non ricordo se io lo dicevo ah ok ok dice che c'è una sorpresa nell'isola lenda però a parte del a parte l'ender chest non c'è nulla quindi allora direi che tranquillamente questo video devo finire qui mentre off camera mi finisco il mi finisco il mob spawner e comincio ad accogliere un po' di roba sarebbe utile ottenere pure un po' un po' di un po' un po' di roba in generale e mi continuo a raccogliere la roba all'interno dell'isola del nether e quindi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate un bel mi piace di iscrivervi al canale di seguirmi su twitter instagram facebook ovunque voi vogliate io vi saluto ciao a tutti voi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti